ok direi quindi che possiamo iniziare e come scritto su slack ieri c'erano già le slide online quindi avrete intravisto che oggi parliamo di html e css quindi due tecnologie alla base delle nostre applicazioni web le tecnologie diciamo così più vecchie in un certo senso perché sono quelle diciamo presenti fin quasi dagli albori del web dunque qui f11 dunque sto condividendo lo schermo forse no e facciamo stop perché mi sembra che non funzioni non vedo desktop ok ok bene dicevamo sono le tecnologie presenti sin dall'inizio l'html è quello che è stato diciamo il fautore di tutta la rivoluzione del web e poi il css è venuto poco dopo e ci consente di diciamo organizzare tutto in una maniera molto migliore di quanto si faceva una volta con l'html quindi in queste poche slide facciamo una velocissima introduzione alle caratteristiche essenziali di html perché poi nelle nostre applicazioni web sostanzialmente dovremo andare a scrivere un po' di codice html e il codice html come vedremo è la struttura della pagina struttura nel senso di struttura logica contenuto della pagina e invece il css sarà quello che ci consente di dare una forma una presentazione ragionevole ai nostri contenuti e appunto quello che vediamo nella seconda parte di questa mattina quindi noi non facciamo tutta la storia dell'html sin dall'inizio ci concentriamo sull'ultima versione di html che è quella che vedete qui sulla slide l'html 5 che è quello fondamentalmente ormai supportato da tutti i browser e che introduce una serie di novità rispetto a quanto era presente nel passato quindi partiamo dal 1991 dove questo signore, Tim Berners-Lee che magari avete già sentito nominare ha inventato appunto, dicono il web ma in realtà l'html che è una maniera di descrivere pagine con collegamenti per testuali quindi cliccabili in maniera che si possa navigare da una risorsa all'altra poi c'è stata tutta una lunga storia in cui non entriamo troppo nei dettagli ma diciamo diverse organizzazioni si sono occupate di cercare di standardizzare questa tecnologia prima l'ITF che sapete molto attiva nei protocolli in ambito internet e poi il V3C, il World Wide Web Consortium nel momento in cui si è capito fondamentalmente che c'era la potenzialità di creare appunto questo web questa ragnatela di documenti interconnessi si è arrivato all'html 4 che è stato in uso per molto tempo come vedete 1999 quindi 2000 per un po' di anni dopodiché si è cominciato a dire beh l'html è cresciuto in una maniera un pochino disordinata cerchiamo di mettere ordine, cerchiamo di rendere, avere delle regole un po' più strette eccetera per esempio per la gestione di tag simile a xml eccetera e fondamentalmente però questo tentativo è piaciuto poco agli sviluppatori del web e quindi fondamentalmente ormai xhtml è stato abbandonato e siamo invece evoluti verso una situazione in cui oggigiorno fondamentalmente stiamo usando html 5 che prima di tutto è diciamo portato avanti da un consorzio un po' più ampio di quello del V3C quindi questo WhatWG Web Hypertext Application Technology Working Group in cui ci concentriamo non solo sulla semplice creazione di pagine interconnesse ma sulla realizzazione di vere e proprie applicazioni web quindi l'html 5 introduce degli elementi che ci consentono ci facilitano di molto nella realizzazione di applicazioni web e questo è semplicemente il logo, non è un punto interrogativo che dice non so cosa avviene o cosa succede in questo momento appunto la prima versione html 5 è nata nel 2014 ma questo è un cosiddetto living standard nel senso che viene aggiornato di continuo per cui non ci sono release congelate o meglio si può congelare ma si congela quello che c'è ad un certo istante e non c'è una release ufficiale una nuova versione ogni tot mesi, anni e così via e noi appunto ci concentriamo sull'html 5 perché è quello che ci serve e viene utilizzato oggigiorno per realizzare applicazioni web quindi diciamo che fino all'html 4 avevamo qualche cosa che ci serviva fondamentalmente a creare dei documenti delle pagine web in cui ci si focalizzava sul design sulla visualizzazione di queste pagine introducendo anche elementi di diciamo di che arricchivano la pagina come audio, video o altri tipi di comportamenti dinamici però fondamentalmente era una questione di avere dei contenuti mentre invece con l'html 5 c'è questo spostamento più verso le applicazioni web che sono poi quelle che usiamo tutti i giorni aprite un qualsiasi sito dinamico vostri mail, un motore di ricerca un qualsiasi sito dove dovete registrarvi vedere una lista di elementi far acquisti e così via sono tutte applicazioni web quindi è un qualcosa servito a un browser che di base usa la tecnologia html anzi linguaggio html per descrivere il contenuto di base della pagina come abbiamo visto l'altra volta poi mano a mano che l'utente interagisce e quindi la chiave è l'interazione con l'utente si può andare a modificare il contenuto della pagina in maniera dinamica secondo il comportamento del codice che fondamentalmente gira localmente ed è quello che andremo poi a fare noi nelle nostre applicazioni web HTML5 non è uno standard ma è una famiglia di standard nel senso che ci sono tante tecnologie che vengono messe insieme come vedete queste sono le specifiche diciamo portate avanti dal WOTWG che appunto è questo working group che si occupa fondamentalmente di HTML5 e come vedete ci sono tante tecnologie adesso non entriamo nei dettagli perché non è il caso però che compongono possiamo dirlo standard ma in realtà appunto è una famiglia di standard quindi c'è chiaramente la parte base l'html i vari elementi HTML eccetera che adesso andiamo a descrivere un pochino più nel dettaglio ma anche tutta un'altra serie di fondamentalmente API che ci consentono di realizzare comportamenti utili per le nostre applicazioni web e in più c'è anche qualcosa che è un po' al di fuori di queste specifiche che però viene ampiamente utilizzato e quindi supportato dai browser moderni anche se magari non è ancora standardizzato e magari in fase di standardizzazione ecco lo standard dell'HTML5 dicevamo è un live forse meglio dire living standard nel senso che è uno standard che evolve evolve nel tempo e quindi non è che si può dire che al giorno X c'è il browser che supporta tutto l'HTML5 i vari browser si aggiornano si aggiornano in maniera abbastanza frequente tra l'altro come penso abbiate la possibilità di sperimentare perché frequentemente ci viene richiesto ci viene detto il browser non è aggiornato aggiornale eccetera e mano a mano che si aggiornano supportano sempre più caratteristiche di HTML5 ma non è detto che una caratteristica sia sempre presente in tutti i browser diciamo che se è passato parecchio tempo ed è una caratteristica utile abbiamo molta alta probabilità di trovarla implementata in quasi tutti i browser altrimenti dipende un po' dagli sviluppatori del browser ci sono questi siti come questo che vi mettiamo sulla slide in cui potete andare a verificare eventualmente la caratteristica che vi interessa e sapere quanto supporto ha all'interno di vari browser e poi come vi ricordate se per caso non ci fosse supporto in generale se sviluppiamo le nostre applicazioni web tramite un framework tramite una qualche libreria che ci aiuta nello sviluppo di solito queste incompatibilità o mancanze sono riempite tramite codici apposta librerie apposta fornite dall'ambiente che andiamo a utilizzare per riuscire a consentirci di utilizzare almeno le caratteristiche principali senza andare verso le più oscure o le meno utilizzate però almeno le caratteristiche principali vengono diciamo in qualche maniera riempite e quindi dicevamo di quei polifil che alla fine sono dei riempitivi del codice inserito all'interno dei browser che non hanno supporto per una certa caratteristica per comunque essere in grado di fornirla alla nostra applicazione quindi il fatto del codice sviluppato da qualcuno che emula una certa funzionalità che al momento manca ancora ok come è composto un documento html proprio di base il minimo bene intanto è un file di testo leggibile dagli esseri umani infatti oggi faremo qualche esperimento come sempre cerchiamo nel limite del possibile di fare esperimenti pratici e quindi cerco di farvi vedere qualcosa nel momento in cui andiamo a parlarne quindi è un file di testo unicode come quelli javascript quindi possiamo mettere anche dei caratteri chiamiamoli così strani nel senso che strani per noi ma voglio dire possono essere in qualsiasi lingua perché appunto c'è supporto per unicode cerchiamo come sempre di non esagerare nel senso che bisogna poi sempre fare attenzione che tutto venga visualizzato correttamente perché il file deve essere poi interpretato correttamente nel momento in cui si esce dalla parte base diciamo dalla prima parte della tabella ASCII quindi con i caratteri fondamentalmente inglesi maiuscoli, minuscoli, punteggiatura eccetera c'è sempre il rischio che qualcosa vada storto però diciamo fondamentalmente c'è il supporto per tutto per qualsiasi lingua perché in unicode fondamentalmente c'è la possibilità di rappresentare i caratteri di qualsiasi lingua e poi il documento HTML è composto da diciamo una dichiarazione iniziale alla prima riga il tipo del documento che è molto semplice in HTML5 guardiamo solo questo appunto questo doctype e poi una serie di elementi annidati con questa sintassi minore maggiore che ci consente appunto di dichiarare un elemento che va prima aperto e poi chiuso annidati nel senso che appunto si apre e si chiude la sintassi della chiusura con la barra stesso nome del tag con la barra e poi al suo interno ci sono altri elementi eventualmente anche più di uno allo stesso livello come nel caso appunto head, body e così via un elemento che compone diciamo un pezzo di HTML è un tag viene chiamato tag quindi HTML è un tag add un tag title è un tag p, a eccetera sono un tag il quale può avere zero o più attributi quindi in questo caso per esempio ha un attributo di nome href e che ha un certo valore che si segnala in questa maniera uguale virgolette con il suo valore name, value, pairs separati dall'uguale devono essere chiusi quindi devono essere annidati correttamente e poi può esserci anche del testo puro testo tra un tag l'apertura e la chiusura di un tag o tra un tag e l'altro ok quindi la struttura in HTML5 è stata un po' diciamo da un lato semplificata perché rispetto alle versioni precedenti che erano più complicate appunto fondamentalmente abbiamo una struttura in cui c'è una prima riga che dice doc type HTML e poi un elemento radice HTML sotto il quale c'è tutto con un annidamento che deve essere corretto nel senso non bisogna lasciare tag aperti e così via e quindi è un po' forzata nel senso che se guardate pagine più vecchie ogni tanto c'erano dei tag non chiusi e così via il browser i browser tendenzialmente sono abbastanza tolleranti in questo senso ma nella specifica HTML5 si raccomanda di chiudere tutti i tag ed è quello che cercheremo di fare anche perché rende il tutto più ordinato più leggibile e senza problemi di parsing quindi di interpretazione da parte dei vari browser perché appunto nel momento in cui non seguiamo più una specifica che ci richiede di annidare i vari elementi c'è il rischio che qualcosa vada sempre storto nell'interpretazione del contenuto quindi struttura di base prima linea e poi elemento HTML che è l'elemento radice il quale contiene due due sotto tag head che contiene tutta una serie di informazioni di metadati relativi al documento per esempio il titolo altri metadati file di stile di cui parleremo tra poco quando parliamo appunto dello stile e carica per esempio il codice javascript che è poi quello che deve essere eseguito per eseguire la nostra applicazione localmente sul client e poi c'è la parte body che è il contenuto della pagina quindi quello che vogliamo scrivere all'interno del nostro documento come vedete qui è titolo e poi body con dei tag che adesso andiamo brevemente a vedere in cui sostanzialmente scriviamo quello che desideriamo visualizzare nella pagina il documento html viene parsificato dal browser nel momento in cui viene ricevuto dal server viene caricato parsificato cosa vuol dire viene rappresentato sotto forma di una struttura dati una struttura dati ad albero perché ovviamente sono elementi annidati e quindi il documento che vedete qui a sinistra di fatto viene rappresentato in questa maniera doc type html poi c'è un elemento add un body ecco vi faccio notare anche la presenza del testo perché comunque ci sono dei caratteri anche se non li vediamo che sono gli a capo gli spazi eccetera che vengono considerati nell'albero di rappresentazione del documento poi sta a chi usa questo albero decidere cosa farne e se devono essere utilizzati ignorati eccetera però questa è la struttura che corrisponde al documento che vedete qui sulla sinistra quindi add body sui tag quindi trascurando per il momento questi elementi di testo e appunto ogni tag ha poi la possibilità di avere del contenuto che può essere del testo oppure degli attributi a seconda della necessità gli elementi definiscono il significato del testo che includiamo all'interno del documento stesso quindi fondamentalmente sono una maniera per diciamo esplicitare la semantica del contenuto del documento cioè che cosa vogliamo scrivere in questo documento e qual è il suo significato poi chiaramente da questa struttura semantica titolo paragrafo lista di elementi tabella eccetera è necessario creare una visualizzazione ma questo è implicito e lo farà il browser per noi inizialmente sulla sulla base di uno stile predefinito suo interno e se noi forniamo anche uno stile di rappresentazione seguirà poi questo stile per riuscire a visualizzare il contenuto come noi desideriamo ecco una volta nella versione html più vecchie c'era la possibilità di inserire nei tag html anche elementi che diciamo spiegavano o indicavano al browser come visualizzare le informazioni dal punto di vista stilistico quindi come presentare le informazioni che so il tipo di carattere la dimensione grassetto non grassetto andare a capo quanto doveva essere grande la colonna eccetera eccetera queste cose è stata separata il più possibile e si raccomanda di mantenerla separata il più possibile perché così è più facile gestire il tutto e fondamentalmente le ultime versioni html quindi l'html5 ha eliminato il più possibile tutti i tag che si rivolgevano a gestire questi aspetti di presentazione perché la presentazione oramai deve essere gestita diversamente appunto con questi fogli di stile e quindi il principio base di html5 è che l'html il codice html quindi tag html non dovrebbero mai avere dover gestire questioni di presentazione che demandiamo ad un altro sistema ogni elemento html ha una sua modalità con la quale viene visualizzato quando ci sono i vari elementi che compongono la pagina il paragrafo il link la tabella eccetera ognuno di questi elementi viene collocato sulla pagina e il browser li considera o elementi che diciamo devono essere visualizzati come un blocco e quindi creano una nuova linea nel momento in cui vengono letti dal documento html oppure come elementi in line e quindi vanno inseriti uno dopo l'altro sulla stessa linea e vanno eventualmente a capo quando abbiamo finito la dimensione della pagina ok quindi su questo torniamo poi però è una cosa importante da sapere che diciamo tutti gli elementi html hanno una modalità di visualizzazione di default che o è di tipo blocco quindi uno dopo l'altro in verticale quindi nuova linea oppure in orizzontale nel senso uno dietro l'altro come come elementi che che so di un testo per esempio una parte di testo che vogliamo evidenziare piuttosto che un testo normale questi saranno visualizzati uno dietro l'altro in orizzontale perché appunto sono del semplice testo quindi non è che tutte le volte che voglio evidenziare qualcosa devo andare a capo questa è la visualizzazione di default esistono tutta una serie di tag html noi diamo un'occhiazza proprio alle liste di questi tag html ma ci focalizzeremo solo su alcuni che sono poi quelli più utilizzati in pratica ci sono gli elementi che consentono di definire le varie sezioni del nostro documento per esempio un header il contenuto principale una barra di navigazione un footer quindi la parte sotto della pagina e così via quindi ci dicono che cosa è contenuto in ogni parte del nostro documento dal punto di vista logico sempre semantico elementi di diciamo phrasing cioè quelli che ci consentono di scrivere il contenuto diciamo in parole povere eventualmente evidenziando delle parti dicendo che parti vanno prese così come sono quando per esempio scriviamo il codice e vogliamo scrivere del codice all'interno di una pagina e così via e quindi diciamo questi elementi tra l'altro poi ecco ci sono quelli interattivi che consentono poi all'utente di interagire con la pagina e così via e tutti questi tag html ci consentono di realizzare la struttura della pagina che desideriamo e che poi sarà utile anche per la nostra applicazione andiamo a dare un'occhiata ad alcuni di questi elementi abbiamo ecco questi sono i tipici diciamo tag introdotti tra l'altro da html5 per fare diciamo la separazione del contenuto in elementi logici quindi l'article che è fondamentalmente la parte principale ciò che vogliamo scrivere all'interno della nostra pagina che eventualmente può essere diviso in varie sezioni parti della pagina che sono come dire a parte rispetto al contenuto principale quindi possono essere che sono una barra di navigazione piuttosto che un menu nel quale possiamo andare che possiamo utilizzare per andare a muoverci in diverse parti del nostro sito piuttosto che un header o un footer dove andiamo a inserire eventualmente le parti appunto che devono stare per qualche motivo sono logicamente una parte iniziale una parte finale nel momento in cui questo contenuto viene presentato all'utente abbiamo tutta una serie di tag che ci consentono di realizzare gli header quindi diciamo le intestazioni di sezione dal titolo del documento ai vari sottotitoli e così via qui trovate la guida questa è presa dalle specifiche whatvg quindi fondamentalmente dall'html standard andiamo a vedere ecco giusto per farvi vedere che faccia hanno quindi potete anche andare a consultare queste specifiche che sono diciamo relativamente leggibili anche ben fatte se avete dei dubbi siete curiosi di leggere appunto la definizione completa quindi un articolo è una composizione completa e autonoma all'interno di un documento che in principio è indipendente da tutto il resto quindi questo può essere un post in un forum un articolo di un giornale un entry in un blog un commento un qualsiascosa diciamo self-contained e così via quindi potete andarvi a leggere tutte le definizioni ogni tanto è anche abbastanza interessante e curioso andare a fare questa operazione questo è il layout tipico di una pagina diciamo che visualizziamo in un browser e molti siti sono fatti in questa maniera quindi c'è una parte di header un footer una eventuale barra di navigazione una barra che ci mostra che so del contenuto che magari cambia secondo della parte principale che andiamo a visualizzare perché magari non so hai dei link che sono appropriati per il contenuto che andiamo a visualizzare e così via quindi questo è un possibile layout di una pagina html abbastanza tipico e quindi può essere realizzato con quei tag html5 di cui dicevamo prima notate bene dal punto di vista solamente del contenuto quindi non stiamo ancora parlando di visualizzazione cioè qui ovviamente per far vedere qualcosa devo collocare questi elementi da qualche parte però nel momento in cui non faccio nulla non sto ancora dicendo se la barra qui va a sinistra o a destra barra di navigazione in alto in basso e così via quindi sto solo dividendo logicamente il contenuto i contenuti presenti nella mia pagina diamo un'occhiata ad alcuni tag molto frequenti e poi magari andiamo a fare qualche piccolo esperimento pratico quindi un tag molto frequente che incontrate il paragrafo di testo che è l'elemento che ci consente di scrivere del testo e poi ci sono per esempio le liste ordered o unordered quindi o sta per ordered quindi ordinata e non ordinata ogni elemento è li list item quindi il browser sa che è una lista in cui diciamo è necessario mantenere l'ordinamento oppure è semplicemente una lista di oggetti un insieme in cui l'ordinamento non è necessario quindi per esempio la visualizzazione di default in un caso c'è le numere nell'altro no e poi ci sono tutta una serie di altri tag il tag che vale la pena di menzionare è questo div che non ha nessun significato speciale quindi un po' particolare ed è usato principalmente per raggruppare in un unico gruppo elementi consecutivi e questo ci tornerà utile perché nel momento in cui dobbiamo andare a indirizzare a come dire a prendere a prendere dal foglio di stile un certo gruppo di elementi all'interno della nostra pagina applicare un certo comportamento questo verrà fatto con degli attributi particolari ma devo farlo su su un unico elemento e quindi per raggruppare insieme degli elementi che voglio abbiano tutti lo stesso comportamento in un unico gruppo in un unico blocco posso usare questo tag che è appunto molto utilizzato perché appunto è invisibile dal punto di vista della presentazione ma ci consente di come dire fare un gruppo di elementi e quindi andare a indicare che ho il gruppo di elementi nel momento in cui metto poi un attributo una classe che poi posso agganciare dal foglio di stile vediamo tra un istante come si fa questa cosa con un esempio elementi di tipo inline quindi abbiamo fatto quella distinzione che dicevamo prima tra gli elementi di tipo blocco questi ognuno di questi fa sì che il nuovo contenuto venga messo su una nuova linea e invece negli elementi inline sono uno di seguito all'altro da sinistra e destra eventualmente andando a capo grazie che c'è un intervento su slack e quindi che ci dice div non era stato replicato in html5 a favore di altri tag di tipo section article eccetera sì dunque dove che su slide c'era ecco andiamo un attimo più avanti poi torniamo indietro diciamo che questo è lo stile html4 se volete e questo è lo stile html5 in cui sono stati introdotti dei tag espliciti per dei tipici blocchi di elementi che sono venivano utilizzati frequentemente quello schema di costruzione della pagina che vi dicevo prima utilizzato dalla maggior parte dei siti quindi quasi tutti i siti c'è un header in quasi tutti i siti c'è un footer in quasi tutti i siti c'è una barra di navigazione e così via elemento principale quindi in html5 si è pensato di introdurre la possibilità di avere dei tag specifici quindi evitare di usare tutti dei div e dare dover dare dei nomi e poi usare quei nomi però di fatto appunto sono tutti tag dello stesso tipo quindi da questo punto di vista dal punto di vista di marcare la semantica del documento sì dal punto di vista dell'eliminazione del tutto non credo perché appunto ci serve ed è l'elemento fondamentale che ci serve a raggruppare elementi di tipo block e quindi nel momento in cui per esempio con i fogli di stilo la necessità di raggruppare più elementi o anche solo per la questione della disposizione sulla pagina quindi l'organizzazione layout della pagina non è che ho dando alternative quindi è possibile che nella specifica ci sia scritto che come dire si sconsiglia l'uso per appunto come veniva fatto nell'html versione precedente per elementi semantici nella pagina quindi header, footer eccetera non dubito che sia stato deprecato diciamo per gli altri usi perché non credo che al momento ci sia alternativa ok comunque potrei sbagliarmi bisognerebbe andare a vedere la specifica diciamo che a noi a questo livello interessa diciamo capire che nell'html dovrebbe starci dei tag dovrebbero starci dei tag che spiegano la semantica del contenuto quindi se ho un header scrivo header se ho un foot scrivo foot eccetera e se devo mettere però insieme dei tag che magari non sono omogenei tra loro e per esempio per questioni di layout di disposizione eccetera non ho alternative in questo momento a usare il div tag che sono che hanno il comportamento in line quindi che vengono visualizzati come degli elementi disposti di default da sinistra a destra su un'unica riga eventualmente andando a capo sono tutti questi tag ma noi andiamo a vedere solamente i principali sicuramente la A e la Anchor che è il link è uno dei più utilizzati e tra l'altro poi con lo stile può prendere qualsiasi tipo di forma fondamentalmente può quasi diventare anche un bottone B I M e Strong che sono diciamo erano i tag che venivano utilizzati per rendere il testo in grassetto corsivo eccetera ma in realtà qui nell'HTML5 dobbiamo intenderli come tag che vogliono raggruppare un insieme di un pezzo di contenuto quindi un pezzo di test in questo caso che deve essere evidenziato in qualche modo poi come sarà evidenziato dipende dallo stile il tag IMG che è quello che ci consente di introdurre dei contenuti di tipo diverso per esempio immagini nel caso di IMG ecco è il tag span che è un po' l'equivalente del tag div nel caso di elementi di tipo inline quindi il tag se noi introduciamo un div intorno a qualcosa abbiamo introdotto un blocco e questo blocco fa sì che tutto il resto vada a capo quindi nella linea successiva nella visualizzazione del browser questi comportamenti poi si possono cambiare però fondamentalmente questo è il comportamento di default se io uso lo span sono in grado di mettere insieme degli elementi di tipo inline e raggrupparli insieme e quindi riferirmi a questi elementi con per esempio un identificativo una classe eccetera come andremo a vedere tra un istante che che però non non mi fanno creare un nuovo blocco e quindi andare tutto il contenuto su una nuova linea ma semplicemente lo mettono insieme a livello logico li mettono insieme a livello logico quindi normalmente sono formatati left to right da sinistra a destra e vanno a capo a meno che non cambiamo poi il comportamento appunto cambiando un attributo apposta di cui diciamo poi tra poco esiste anche del contenuto di tipo interattivo ed è quello che poi ci consente di realizzare le applicazioni web perché l'utente deve interagire con qualcosa quindi per esempio con dei bottoni con dei link che appunto sono neanche i link il tag di tipo input che fondamentalmente è quello che ci consente di realizzare la maggior parte dei controlli di input che l'utente può utilizzare cioè delle caselle di testo dei bottoni delle menu di selezione e così via vabbè poi ci sono dei tag un po' particolari che vedremo quando c'è bisogno quando parliamo poi dei form quindi quando ho bisogno di un'area di testo un po' più ampia di una semplice riga in cui scrivo che sono nome cognome e così via ci sono dei tag apposta ma diciamo che nel momento in cui ne abbiamo bisogno appunto andremo a vederli nel momento in cui parlo di contenuti ci sono diversi tipi di contenuti abbiamo già detto delle liste voglio realizzare delle tabelle un altro tipo di contenuto strutturato e chiaramente ci sono dei tag apposta tag table con tutti le sue diciamo i suoi chiamiamoli sotto tag nel senso che sono i tag che mi consentono di evidenziare sotto parti della tabella per esempio la riga di header come la colonna di header come creare una nuova riga creare caselle quindi tr table row td e la cella la singola cella e poi posso con degli attributi apposta realizzare anche celle più celle fuse insieme come in qualsiasi tabella che si rispetti basta guardare un esempio dare un'occhiata in giro e si capisce molto facilmente come utilizzare questi elementi quindi non perdiamo tempo su queste cose perché veramente appunto sono esercizi estremamente semplici parliamo invece delle cose importanti ossia che ognuno di questi tag html può essere utilizzato con una serie di attributi chiave importanti che si applicano a qualsiasi tipo di elemento che ci serviranno poi tra poco nel momento in cui dobbiamo andare ad agganciare questi questi tag dai fogli di stile per consentire di andare a cambiare il comportamento comportamento di posizione di visualizzazione e così via quindi su tutti i tag posso definire un attributo di tipo classe che ha un valore che è una lista separata da spazi di identificativi di classe che cosa sono? sono le categorie al quale l'elemento appartiene e questo ci verrà molto chiaro nel momento in cui andiamo a parlare tra poco di css perché è fondamentalmente lo stile di quell'elemento che so classe potrebbe essere corsivo classe potrebbe essere colore rosso classe potrebbe essere centrato piuttosto che allineato a sinistra e così via quindi uno stile che vogliamo applicare essendo che possiamo separare le varie classi semplicemente con degli spazi possiamo anche applicare più stili allo stesso elemento id invece è un identificativo univoco che deve essere univoco all'interno di un certo documento html e di nuovo ampiamente utilizzato in css e anche in javascript per andare a recuperare quel elemento per esempio dall'albero del dom senza doversi scorrere tutto l'albero del dom a partire dalla radice se io conosco qual è l'identificativo dell'elemento è una particolare chiamata javascript che funziona all'interno del browser che dato l'id mi recupera l'elemento sul quale poi io posso operare a livello di codice e stessa cosa si può fare anche a livello del css però il css essendo uno stile è diciamo più orientato ad utilizzare categorie quindi classi piuttosto che identificativi però per elementi singoli può essere utile ogni tanto è utile ecco esiste anche l'attributo style che è di nuovo applicabile a tutti gli elementi con il quale posso applicare delle regole secondo appunto la filosofia del css a uno specifico elemento html qui lo nominiamo ma qui anche diciamo di non usare di non usarlo possibilmente ma piuttosto preferire delle regole css di cui parliamo tra poco per esempio usando l'id quindi se per esempio un unico elemento se già è più di un elemento dovremmo usare una classe di stile quindi è già un'indicazione del fatto che metterlo all'interno del documento che quindi ci implica di ripetere il codice è qualcosa che non andrebbe fatto perché duplicare il codice che deve essere uguale ovviamente è sempre una cattiva pratica di programmazione in qualsiasi linguaggio ma nel momento in cui abbiamo da fare una prova occasionale così fare un piccolo test verificare come funziona una cosa eccetera e non vogliamo creare un file apposta esterno css eccetera diciamo che abbiamo questa opportunità appunto da usare però con molta cautela cosa ci scriviamo dentro dobbiamo prima parlare di css poi capirete appunto cosa possiamo inserire però siccome abbiamo detto che vogliamo cercare di mantenere lo stile di presentazione separato dal documento html questo è un elemento che sì è lì è a disposizione però cerchiamo di non usarlo se non proprio appunto solo per fare piccoli piccoli esperimenti richiamo ancora la vostra attenzione su questi elementi diciamo wildcard nel senso jolly per dirlo in italiano ma non è italiano anche jolly ossia che sono elementi che non vengono visualizzati ma fanno parte della struttura del documento quindi dell'albero del DOM e uno è di tipo block e uno è di tipo inline quindi la differenza è semplicemente questa non hanno una semantica predefinita e servono a marcare degli specifici elementi html all'interno del nostro documento per potergli poi tipicamente applicare delle degli stili tramite le classi o direttamente tramite un id se sono elementi unici ok quindi a sinistra nella slide che vedevamo prima quando il vostro collega ha fatto la domanda diciamo che abbiamo lo stile classico html 4 in cui abbiamo degli elementi html opachi a cui abbiamo cercato di dare un significato con degli attributi e visto che questo sistema era abbastanza diffuso in passato nella creazione del contenuto delle pagine l'html 5 ha cercato di far proprio questo comportamento e quindi definendo direttamente dei tag che hanno la semantica che tipicamente veniva utilizzata appunto header navigazione articolo sezione footer eccetera dal punto di vista del rendering nessuno di questi due ha un comportamento predefinito quindi dal punto di vista pratico sono equivalenti però diciamo che quello a destra è più in linea con l'idea la filosofia dell'html 5 in cui si cerca di rendere esplicita la semantica del documento il più possibile tramite tag html e poi comunque si farà la visualizzazione il layout della pagina eccetera sulla base delle regole contenute nei fogli di stile anche in html 4 avveniva così però appunto cerchiamo di seguire questa filosofia probabilmente è meglio perché è un po' più moderna semplicemente come faccio a scegliere quale elemento html 5 utilizzare beh diciamo che questo diagramma di flusso vi dà un'indicazione più o meno diciamo sintetica di che cosa fare quindi è un elemento principale di navigazione sì allora probabilmente un nav no? ha senso per conto suo quindi è un blocco di contenuto indipendente sì allora probabilmente un article è richiesto per capire il contenuto no allora forse una side tipo una lista di link di riferimenti eccetera che sono a parte utili ma non indispensabili ok puoi mettere un appendice va bene e ha senso mettere un header sì allora forse il contenuto può stare in una section in quale poi possiamo definire un header vabbè ha una qualche semantica particolare un paragrafo e un blocco di codice e un qualcosa è ok se no beh se no se diciamo non abbiamo alternativo ok sarà un div quindi elemento generico ok quindi questa è un'indicazione di massima poi appunto per scrivere dei documenti il più possibile ragionevoli dal punto di vista del contenuto semantico qui trovate nella slide si vede poco però un documento html5 ben fatto e vi tutte queste indicazioni vi vengono fornite per appunto per consentirvi di capire qual è l'idea che sta alla base di un documento ben fatto di questo tipo che poi potete guardarvi per conto vostro con calma però ci sono delle cose che non abbiamo ancora visto però comunque per esempio section article footer eccetera eccetera quindi quando avete un dubbio su come gestire certe cose ecco diciamo che potete potete riferirvi a questo esempio che riassuma abbastanza bene tutto quello che vorremmo che succedesse in un html5 comunque è ben fatto esistono anche dei validatori nel senso che abbiamo detto che il documento html5 dovrebbe rispettare il fatto che i taghi siano aperti chiusi al punto corretto siano tutti chiusi siano i dati correttamente eccetera eccetera se volete vedere se siete conformi alla specifica potete utilizzare questi servizi che sono una curiosità facciamo una prova che ho fatto ieri l'india politica il sito del corso check e ci viene fuori tutta una serie di cose evidentemente non siamo tanto ben html5 ma non scrivo a mano questo codice uso un sistema di di editing online wordpress per chi lo conosce quindi di fatto questo codice è generato e non scritto diciamo che non è che vi danno il bollino di un premio nel momento in cui avete un qualche cosa che è perfettamente compliant con la specifica html5 però diciamo che magari vi possono indicare che so la presenza di errori secondo la specifica che so qui c'è questa src src set non so perché sia stato usato src set probabilmente ecco sizes dovrebbe anche essere presente evidentemente questo forse sarebbe meglio correggere magari è una questione che diciamo non potrebbe magari non seguendo le specifiche c'è sempre più il rischio che visualizzato in browser differenti si comporta in maniera differente c'è una domanda che ci chiede quando si costruisce una pagina è possibile scrivere tutto l'html prima e poi occuparsi dello stile è consigliabile pensare in maniera organica diciamo che questo è un po' è un problema di filosofia no della programmazione come dire voglio scrivere tutto scrivo un programma che deve risolvere un problema scrivo prima tutto il programma e poi lo provo e mano a mano corrego i bacchi oppure ne scrivo un pezzo intanto vedo se nel pensare la mia soluzione ho fatto degli errori quindi lo provo pezzetto per pezzetto dipende un po' da come siamo abituati a lavorare sicuramente dal punto di vista logico è possibile scrivere tutto il contenuto html e dopo pensare alle questioni di visualizzazione perché se ho bisogno di scrivere una tabella voglio dire sempre una tabella sarà se c'è una lista di cose da visualizzare ci sarà una lista è anche vero che però a un certo punto come dire nel momento in cui gli elementi diventano tanti e così via dovrò a un certo punto pormi il problema di come visualizzarli ci stanno tutti nella pagina li visualizzo tutti o no e nel momento in cui dico li visualizzo tutti o no sto prendendo una decisione sul contenuto sul fatto che il contenuto debba essere presente oppure no e quindi questo mi cambia che cosa scrivo nell'html perché se lo metto lo c'è se non lo metto non c'è più a meno che decida di nasconderla ma questo diciamo un altro è un dettaglio facciamo una prova adesso ecco infatti abbiamo finito le slide qui trovate come al solito un po' di riferimenti ma prima di andare avanti facciamo una prova quindi pratica usiamo apriamo dunque io ho preparato il visual studio code ho scritto quindi diciamo ho fatto open folder ho aperto una nuova cartella web diciamo vuota ho creato un nuovo file index.html prima di iniziare la lezione e ho scritto proprio il minimo indispensabile per scrivere un documento html in realtà questi sono già di troppo quindi l'ho preso dalle slide doc type html head body poi se mi va dunque sto usando visual studio code che come vedete è utile per fare diciamo un po' di tutto se il file lo chiamiamo html lui automaticamente ci evidenza il codice come html quindi questo è il documento minimo andiamo a vederlo quindi io prendo questo documento vado nella cartella corrispondente che credo sia questa sì ok solo per comodità faccio open da qui se no poi potrei aprire il browser e andare a caricarmi il documento ho aperto con il no ho aperto sì ho aperto il documento ecco chiudiamo tutto il resto l'ho aperto in firefox e questo è il mio documento il browser non legge necessariamente i contenuti solo da web può anche leggerli da file locale chiaramente con delle limitazioni nel senso che è orientato a lavorare col web però io posso anche visualizzare un contenuto locale cioè il browser di fatto è un visualizzatore di contenuti html ovviamente non si vede niente perché non ho scritto nulla però se io vado a aprire le opzioni diciamo dello sviluppatore quindi ho fatto inspect element oppure dal menu potete andare a fare in ogni browser c'è la sua dunque web developer inspector no? quindi è la stessa cosa in ogni browser c'è la sua modalità per andare a aprire questa specie di debugger integrato e quindi vedo il codice html che ho scritto per la verità non ho ricaricato la pagina infatti adesso head no perché c'è ancora myscores non è l'esempio sbagliato forse non ho salvato ecco non avevo salvato ok quindi adesso non c'è più ok ovviamente stavo facendo delle prove e nel momento in cui voglio scrivere qualcosa prendo e scrivo nel mio documento html che vi ricordo è un file di testo no? quindi semplicemente scrivo dentro nel body consentitemi come faccio di solito di fare un po' di copia e incolla perché se no non finiamo più e sprechiamo solo il tempo a vedere me che scrivo diciamo che voglio farmi ho preparato uno esempio insieme anche ai docenti dell'altro corso in cui voglio scrivermi e fare la tabellina dei miei voti quindi table cominciamo con una cosa molto semplice table table row in cui metto quattro elementi la prima la prima riga è un diciamo contiene l'intestazione delle colonne quindi degli elementi th che sono gli header giusto perché così a livello semantico dico al mio html che sto usando che quel contenuto è un header ok web application 1 trend eccetera eccetera quindi ho fatto un tot di righe qui la griglia è molto regolare quindi non ho bisogno di fondere insieme celle eccetera salvo e vado a vedere come come viene fuori e questo è quello che viene fuori no vabbè ho ingrandito sotto non fa mai male ma volevo ingrandire sopra perché non si ingrandisce sopra ecco e qui diciamo la cosa è molto grezza nel senso che vabbè sono tre elementi tre cose uguali quindi tre righe che contengono tutte la stessa cosa quindi exam score tra l'altro ecco con questo inspector come vedete c'è per qualsiasi browser potete andare a vedere a che cosa corrisponde ogni singolo elemento toccando il codice html ma anche al contrario toccando l'elemento sotto vi compare l'elemento corrispondente evidenziato adesso è un po' difficile farvelo vedere perché io se tocco una cosa questa si sposta si evidenzia eccetera questo è del normale testo oppure possiamo creare che so anche degli elementi interattivi dicevamo che so degli input no poi ci torniamo quando facciamo i form però appunto questo un input type text e qui dentro posso scrivere ovviamente adesso non succede niente perché non questa non è un'applicazione web è solo una pagina descritta in html e quindi non è che a questi bottoni è associato alcun comportamento non succede assolutamente niente ma nel momento in cui inseriremo del codice e manipoleremo il DOM quindi la rappresentazione di questo documento nella memoria del browser riusciremo a a modificare l'aspetto e eventualmente interagire anche con una parte che sta su un altro calcolatore che è fondamentalmente il server dove manteniamo l'informazione modifichiamo l'informazione e così via quindi ho fatto proprio un esempio di base quindi ho scritto un po' di codice html e qui ho messo nel body e quindi ci siamo in questo momento come diceva il vostro collega su stack solo occupati di scrivere il contenuto è una tabella ho messo una tabella poi se voglio posso migliorare nel senso che appunto che so voglio fare un header mettiamoci un header iniziare con una tabella e basta documento in cui ci siano solo una tabella mettiamo header h1 myscore questa è la sezione header quindi tag html5 andiamo a vedere com'è browser quindi andiamo a vedere cosa succede e viene fuori una cosa di questo tipo non dobbiamo focalizzarci sullo stile in questo momento stiamo parlando di contenuto tra l'altro è così enorme semplicemente per questioni di visualizzazione però sta tutto a sinistra sta tutto con questo font che non è che sia granché e così via ma perché non abbiamo ancora applicato uno stile e questo è lo stile di default del browser punto però abbiamo scritto qualcosa diciamo nella pagina e siamo riusciti a visualizzarla eventualmente posso scrivere anche altre informazioni che non necessariamente sono visibili poi basta e passiamo al css quindi nella parte head come avete intravisto all'inizio posso inserire anche delle meta informazioni che possono essere utili ai programmi che processano in maniera automatica il contenuto web motori di ricerca piuttosto che altri programmi in cui metto delle metadati o altre informazioni di questo tipo come adesso i metadati vabbè non ok guardiamo il risultato i metadati non ci cambiano niente di quello che viene visualizzato se invece però metto un titolo e quella è la sezione my scores no sì my scores quindi andiamo a metterlo no mi si è mangiato il il ok quindi i miei voti scriviamoli così vediamo dove va a finire scriviamo in italiano così lo distinguiamo dal my scores qui andiamo a vedere ok ricarichiamo la pagina vi faccio osservare cosa c'è scritto qui sopra nella barra del titolo anche se è un po' piccolo ricarichiamo la pagina ecco il titolo va a finire qui nella barra del titolo questo è il comportamento di default di quasi tutti i browser è una meta informazione quindi non viene visualizzata sulla pagina perché ciò che viene visualizzato qui è il body ma le meta informazioni magari hanno altri punti utili dove possono essere visualizzati per esempio il titolo sul sul titolo della finestra e magari del tab quando ho tante finestre aperte come in questo caso ok se non ci sono dubbi o domande direi che proseguiamo anche perché abbiamo un po' di strada da fare per il foglio di stile ed è tutta cosa tutta sono tutte cose che ci servono per il laboratorio di lunedì non che siano così difficili basta prenderci un po' la mano però insomma bisogna almeno avere una infarinatura di carattere generale per per sapere cosa si sta facendo perché non va in pieno schermo full screen ok benissimo allora parliamo brevemente dei fogli di stile brevemente per modo di dire perché ci tiene occupati fino alla fine della mattina ma faremo anche qualche prova esperimento e per riuscire a capire diciamo come rendere un po' più gradevole l'aspetto della pagina sia dal punto di vista della presentazione che dal punto di vista della disposizione di contenuti quindi parliamo di che cosa si può fare diciamo qualche parola sul CSS a livello fondamentale poi vi anticipo che scriveremo veramente poco CSS perché cercheremo di avvalerci più possibile dei librerie che hanno già diciamo risolto la maggior parte dei problemi per noi hanno diciamo un comportamento una visualizzazione di default abbastanza ragionevole per tutti i tipi di contenuti più comuni per cui useremo quelle e vi invitiamo a usare quelle perché non vogliamo focalizzarsi sull'aspetto di design della pagina dell'applicazione sebbene diciamo deve essere ragionevole nel senso le cose devono essere visibili quando uno ci interagisce devono funzionare e deve avere un senso logico tutta l'interazione però non è che vogliamo la cosa che abbia per forza i bordi gli angoli rotondi piuttosto che abbia l'ombreggiatura eccetera quello lo lasciamo ai designer diciamo che cerchiamo di col minimo sforzo ottenere qualcosa che sia ragionevole e appunto lo otterremo tramite l'utilizzo pesante di librerie che contengono degli stili CSS predefiniti che ci consentono di avere dei buoni default e quindi fondamentalmente di intervenire quasi mai sullo stile parliamo appunto di CSS che si è ormai alla versione 3 e quindi tutti gli aspetti che ci consentono di capire come funziona alla base CSS e poi come usarlo nella modalità più avanzata possibile cioè appunto per la disposizione che è una delle cose più difficili e e come usare appunto la libreria e in questo corso vi suggeriamo di usare Bootstrap perché è appunto una delle librerie più semplici ma anche piuttosto potente per riuscire ad avere una buona visualizzazione anche i fogli di stile sono evoluti molto nel tempo partire dal 1996 quindi parliamo di HTML pre versione 4 fino al CSS3 che è come dire un po' l'equivalente dell'HTML5 dal punto di vista dello stile che è anch'esso un living standard e ha adottato un approccio modulare nel senso che diverse caratteristiche evolvono in maniera abbastanza indipendente tra loro quindi fondamentalmente con il CSS2 eravamo in grado di fare diciamo tutto quello che era necessario fare dal punto di vista stilistico senza dover più inserire aspetti di stile nell'HTML quindi diciamo che con il CSS2 siamo riusciti a separare completamente HTML e questioni di stile e layout il 3 diciamo è un po' come l'HTML5 è la versione più moderna che ci consente di fare di creare alla fine dei siti moderni e anche relativamente facili da gestire e mantenere e così via quindi sostanzialmente ci vengono forniti nuove modalità di accedere ai singoli elementi dei quali voglio cambiare lo stile piuttosto che nuove modalità per la disposizione eccetera sempre più proviamo a dire semplici per diciamo gestire appunto il layout del contenuto ma vedremo che alla fine noi parliamo diciamo degli aspetti fondamentali del CSS per dare un'infarinatura di base ma poi lasceremo fare molto alla libreria che andiamo ad utilizzare quindi impariamo fondamentalmente a usare quella libreria come funziona il CSS il CSS è semplicemente un insieme di regole quindi ci sono degli statement quindi delle regole riguardo uno o più aspetti di uno o più elementi HTML quindi abbiamo costruito il contenuto come abbiamo fatto prima c'è ci sono i tag HTML che definiscono la semantica del contenuto e poi associamo a questi elementi HTML delle regole stilistiche che sono visualizza in blu e fai la dimensione del font 12 punti questa è quello che dice la regola a cosa lo applico ecco c'è nella prima parte della regola un selettore si chiama che è ciò che dice a cosa si applica quella regola quindi un foglio di stile non è nient'altro che un insieme di regole uno o più che si applicano a degli elementi all'interno del documento HTML con questa sintassi abbastanza anche intuitiva quindi sintassi selettori eventualmente anche più di uno adesso diamo un'occhiata breve a questa sintassi aperta graffa e le regole quindi sfondo rosso bordo tre pixel eccetera il documento HTML come sapete abbiamo detto prima è un albero header body in cui tutto quanto è organizzato ad albero quindi documento a sinistra una normalissima tabella dentro un div dentro un altro div e quindi vedete il primo div il secondo div dentro il quale c'è la tabella se incoloniamo tutto per bene riusciamo anche a leggere in maniera più semplice quindi ci sono due div a livello del come figli del primo come vedete qui a destra uno è la tabella eccetera eccetera e uno è un link ma giusto per fare un esercizio ok quindi abbiamo questa struttura d'albero che è quella del DOM che abbiamo visto prima in cui qui semplicemente abbiamo trascurato gli spazi bianchi in questo momento che tendenzialmente vengono trascurati dal browser a parte rari rari casi e quindi questa struttura d'albero fa anche sì che dobbiamo decidere cosa fare nel momento in cui una regola si applica ad un elemento che non è una foglia quindi e la regola fondamentale nei fogli di stile è che gli stili sono ereditati lungo l'albero quindi fino alle foglie la radice qui in cima se io applico qualcosa al body dico il colore è green il colore è il testo bene tutto il testo e erediterà questo stile e quindi sarà tutto verde nel momento in cui una regola più specifica in conflitto con la precedente quindi un'altra che specifica colore bene si applica sempre la regola più specifica quindi più vicina all'elemento che di cui dobbiamo determinare lo stile qui l'h1 è direttamente una foglia l'avessimo fatta su ul e l'i avrebbe preso il colore rosso perché l'elemento più vicino era rosso e quindi faceva ereditare il rosso al resto anche se ce n'era un altro che diceva verde quindi abbastanza intuitivo comunque come comportamento quindi come funziona la regola quindi la parte a destra la dichiarazione c'è una proprietà due punti un valore punto e virgola praticamente punto e virgola vi invitiamo a mettere anche in un'ultima regola punto e virgola anche se non è obbligatorio però come sempre buone pratiche quali sono le come si chiamano le properties le proprietà sono una valanga nel senso che appunto oramai il CSS è un sistema molto completo e ci sono più di 200 properties andate a cercare nella specifica e che non dobbiamo conoscere per forza tutta la memoria ma molte sono intuitive come andiamo a cercarle ma abbiamo già una vaga idea di cosa stiamo cercando align alignment quindi come gestiamo l'allineamento bordi come gestiamo il bordo come gestiamo il colore color font eccetera e poi come sempre da bravi programmatori nel momento in cui abbiamo bisogno di capire qualcosa sapere qualcosa mettiamo su un motore di ricerca andiamo a dare un'occhiata qualche esempio quello ci dà l'inbeccata per andare a cercare una regola che sia quindi una proprietà che sia utile per noi no? quindi che so vogliamo non so appunto abbiamo bisogno di modificare il font prima scrive CSS font e magari quello ci dà l'inbeccata sulla sulla properties da andare ad utilizzare e sulla quale ragionare eccetera dobbiamo avere un'infarinatura di base che è quella che stiamo cercando di dare nel corso adesso su come funzionare il CSS quindi una volta che ho trovato la properties dove andare a cercarmi i valori che tipo di valori posso dare dove li scrivo come faccio ad applicarli a quello che voglio però appunto nel momento in cui devo applicare un certo stile voglio un certo stile come in mente devo un po' da un certo punto di vista come dire essere autonoma nel cercare di andare a determinare qual è la properties e il valore che posso scrivere in un file CSS i valori che posso scrivere possono essere di tipo diversi possono essere dei numeri delle misure delle percentuali dei valori enumerati cioè dei valori predefiniti come i colori rosso verde blu eccetera eccetera piuttosto che appunto dei colori in cui specifico direttamente il valore di ogni componente e così via tra l'altro per ogni property si è specificato a che cosa si applica quindi e questo lo facciamo noi col selettore ed è specificato se la proprietà è ereditata dagli elementi figli nell'albero del DOM perché non tutte le proprietà sono ereditate ce ne sono alcune che non ha senso ereditare come che sono l'immagine di background per dire se no avremmo tanti pezzettini di immagini di background quella è solo una proprietà del body per dire e basta perché si applica tutta la pagina ma i sotto elementi non devono ereditarla se no ci crea più un problema che altro ho cliccato appunto qui trovate il reference sulla solita Mozilla developer network e quindi se avete appunto dei dubbi consultate questo è una delle risorse più autorevoli in questo senso ok dove ci sono tutte queste properties come abbiamo diviso i tag in in categorie sono divisibili in categorie quindi ovviamente ci sono delle properties che so che pensano al colore piuttosto che pensano a certi altri aspetti più trasversali come per esempio che so l'animazione non è che dovete programmarvi le animazioni quando vedete qualcosa di ben animato all'interno della pagina html probabilmente è stata usata una versione css abbastanza recente il 3 che appunto ha la possibilità di animare gli elementi e semplicemente è stata impostata questa proprietà e quindi il browser fa tutto da solo alcune properties sono specifiche di alcuni tag che so quelle delle liste che chiaramente si applicheranno solo se abbiamo un tag di tipo lista piuttosto che proprietà delle tabelle eccetera altre sono un po' più generali per esempio quelle del testo quindi dovunque abbiamo testo e così via si tratta solo di prendere un po' di confidenza con queste con queste properties ma come vi dicevo prima noi raramente avremo bisogno di intervenire direttamente su queste properties lo faremo un pochino in laboratorio ma giusto per fare appunto il minimo di esercizio per impraticherci un attimo col css ma fondamentalmente cercheremo di usare tutto quasi tutto già pronto perché comunque diciamo creare delle buone regole css è praticamente un lavoro a se stante nel senso che ci sono designer che fanno quello di mestiere perché sono tantissime regole e poi c'è il problema che spesso interagiscono interagiscono magari in maniera non proprio intuitiva soprattutto dal punto di vista del layout dal punto di vista della presentazione diciamo che si può esserci qualche problema quando abbiamo delle cose un po' particolari animazioni eccetera però parte quello il resto si risolve con il layout diciamo è già più difficile anche perché ci sono diversi modi di fare layout come vedremo sempre questa mattina in breve dunque come rappresentiamo dei valori in css se questo vale la pena riconoscerlo perché appunto vogliamo fare il board è banale dimmi quanto vuoi il board e non possiamo dobbiamo sapere come esprimere un valore e quindi ci sono diversi modi di esprimere le unità in particolare per la lunghezza una delle più comuni è il pixel che è fissa nel senso che è un pixel dello schermo però capite bene già da qui che nel momento in cui ci fissiamo su un certo tipo di su un certo tipo di dispositivo quindi diciamo ragioniamo in termini di pixel del dispositivo che visualizza la pagina quindi quello che fa girare il browser e ci stiamo legando un po' troppo al diciamo all'hardware sul quale stiamo andando a visualizzare il contenuto perché se poi lo schermo è più grande il pixel magari è più piccolo o ce ne sono di più di meno e così via e quindi spesso è utile avere la possibilità di specificare queste dimensioni in maniera relativa quindi se ingrandiamo la pagina questa lunghezza che abbiamo specificato si ingrandisce e viceversa se rimpiccioliamo la pagina o visualizziamo su un dispositivo che è uno schermo più piccolo e così via quindi il pixel è relativo al dispositivo sul quale facciamo la visualizzazione e tra l'altro non è neanche detto che sia esattamente corrispondente a un pixel del dispositivo perché sugli schermi di solito sì e sulle stampanti di solito no quindi e quindi non è non è il massimo per realizzare delle visualizzazioni che tra l'altro funzionino bene indipendentemente dalla dimensione dello schermo le cosiddette responsive di cui diremo nella seconda parte della mattina quindi le unità più comuni di tipo relativo sono queste quindi quando vedete queste sigle all'interno del CSS non spaventatevi ma appunto sono unità relative M sta per due volte la dimensione del font dell'elemento corrente quindi posso agganciarmi alla dimensione del font come ho fatto prima ingrandisco il font si ingrandiscono anche le dimensioni di solito oramai si usa di più questa RAM che è quella del root element perché così non mi devo agganciare al fatto che magari ho modificato la dimensione di quel font magari per motivi vari visualizzazione eccetera oppure dimensioni percentuali sulla sulla dimensione della finestra di visualizzazione o direttamente relativamente all'elemento padre quindi che so l'elemento padre sta su mezza mezza pagina e quindi se io dico il 10% il 10% sarà il 10% dell'elemento padre che contiene quello su cui ho scritto 10% e quindi sarà il 10% di metà cioè in realtà il 5% della visualizzazione complessiva e che può variare dinamicamente perché appunto è semplicemente una percentuale qualche parola sui selettori poi vediamo dove arriviamo eventualmente facciamo pausa i selettori sono il modo con cui decidiamo a cosa applichiamo le regole che scriviamo in CSS quindi abbiamo le properties abbiamo dato dei valori numerati oppure che so left right oppure quindi center oppure dei valori appunto di dimensione lunghezza fisse pixel piuttosto che relative per cento però a cosa lo applichiamo beh c'erano quei selettori li abbiamo intravisti esistono diversi tipi di selettori qui parliamo della versione più moderna del CSS che quindi contiene 5 tipi di selettori selettori di elemento dove fondamentalmente sono quelli che si applicano ad un certo tag quindi usiamo il nome del tag e indirizziamo tutti gli elementi che hanno quel tag gli selettori di classe che si usano con questa sintassi punto qualcosa col nome della classe che definiamo noi decidiamo noi la CSS che però dobbiamo aver riportato uguale nell'html il selettore di id quindi quell'attributo id che vedevamo prima che quindi usa la sintassi con il cancelletto un selettore che va a ricercare un certo particolare tipo di attributo che è presente nel documento che quindi eventualmente avremmo già messo noi magari per qualche altro motivo e poi questi pseudo selettori che sono un po' particolari che diciamo sì in realtà qui erano quattro va bene più pseudo selector perché appunto si riferiscono più che altro dei comportamenti e non tanto al documento quindi si riferiscono più a uno stato che al documento come quando passo sopra col mouse e così via quindi i selettori di elemento sono i più facili questo è un tag html che è presente nel documento h1 noi apriamo graffa scriviamo le nostre proprietà valore color red e tutti gli h1 diventeranno rossi quindi questo è il documento html questo è il documento css che sarà stato importato collegato nel documento html in una maniera che vediamo tra poco e quindi tutte le volte che io scrivo una regola di solito la scrivo in un file separato per mantenere le due cose separate applico questa regola secondo quello che mi dice il selettore se io qui avessi scritto p si applicava tutti i p se avessi scritto gli h1 si applicava tutti gli h1 invece scrivo punto punto blu text che è un nome che mi invento io che è il nome dello stile che voglio creare e tutti gli elementi indipendentemente dal tag che hanno class uguale quello che ho scritto qui quindi blu text prenderanno questo stile quindi il paragrafo questo diventerà blu e il titolo h3 diventerà blu ladder h3 diventerà blu quindi abbastanza semplice punto punto va a prendere tutti quelli che hanno attributo class uguale a qualcosa id stessa cosa ma col id uguale e ce n'è solo uno nel documento html e devo usarla sintassi col cancelletto c'è una domanda scrivendo p blu text invece si applica solo agli elementi p con classe blu text sì sì perché i selettori possono poi essere combinati poi ci sono i selettori attributo in cui la sintassi più semplice attributo uguale valore o ancora più semplice che hanno quell'attributo indipendentemente dal valore e vabbè poi avete tutte tutte le varie varianti ma io non starei a appunto andare a diventare matti su queste cose queste cose se si provano si fa prima si capiscono anche più velocemente ecco i selettori di pseudo class queste sono classi diciamo virtuali internal browser che andiamo a indirizzare tramite due punti è una certa parola che è predefinita all'interno della specifica e quindi non possiamo inventarcela questa ma questa dobbiamo andare a vedere qual è quella che ci interessa e questo per esempio fa 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 sì che tutti i tag quindi i link all'interno del documento che sono stati non sono ancora stati visitati siano blu invece se ci ho già cliccato sopra il browser se lo ricorda e quindi ha due punti visited quindi solo i selettori solo i tag e quindi i selettori che mi dicono i tag che sono stati visitati prenderanno il colore verde oppure quando ci posso sopra col mouse oppure le ho attivati quindi ho premuto il bottone e non ho ancora rilasciato il bottone e così via quindi si tratta solo di di prenderci un po' la mano ma come vi dicevo qui è più che altro saperlo perché poi fondamentalmente useremo qualcosa di già fatto è possibile combinare i selettori come diceva il vostro collega su slack e quindi ci ho fatto l'esempio p.blue text quindi un elemento punto nome della classe eventualmente cancelletto un identificativo però diciamo che se ho selezionato una classe difficilmente vado a indirizzare l'identificativo perché se no l'identificativo mi basta già per indirizzare l'elemento non avrei bisogno neanche di tutto il resto oppure eventualmente ancora con un certo tipo di attributo quindi possono essere combinati in maniera anche abbastanza sofisticata e in più nelle ultime versioni di css possono essere combinate anche più di un selettore quindi questo è il singolo selettore ma posso mettere insieme più di uno quindi dire che tutti che so h1 e h2 diventano rossi scrivo h1 virgola h2 poi la mia regola per il rosso oppure se scrivo con lo spazio occhio che lo spazio non è la virgola quindi s2 deve essere dentro h1 s1 oppure deve essere il figlio immediato di s1 quindi non può essere dentro semplicemente quindi in uno dei vari rami dell'albero al di sotto dell's1 ma deve essere al primo livello e così via e ci sono anche altri per dire allo stesso livello dopo eccetera o subito dopo quindi ecco forse mi sembra di aver provato questo basta fare qualche piccola prova credo ci sia un esempio va bene questo è mischoice va bene che so se andiamo a provare che so per dire questo ok proviamo noi dove vanno messi s1 s2 adesso lo vediamo ecco vanno messi qui quindi adesso qui lo stile l'abbiamo messo dentro tra un beh oramai nella seconda parte poi ne parliamo dove mettiamo lo stile però è ciò che viene prima della regola css quindi questa è la regola quella tra le graffe e qui semplicemente background giallo e quindi qui scriviamo il nostro stile il nostro selettore scusate il selettore che può essere appunto s1 s2 che sono due termini generici per dire nel nostro caso div p e così via con un html di questo tipo magari facciamo un po' più grosso vedete che si applica al p che è immediatamente dentro il div no se invece io avessi scritto div p quindi con lo spazio si applicava al p dentro al p dentro il div sia che sia al livello immediatamente inferiore sia che sia annidato ancora ad un livello inferiore quindi dentro lo span ok se io avessi scritto virgola senta qui tutto quanto quindi sia il div sia il p veniva colorato quindi dove lo mettiamo lo mettiamo qui prima della graffa su sulla regola css sulle regole che ci css che ci interessano e a seconda di come le scriviamo cambia il comportamento perché se lo scriviamo con lo spazio e c'è una questione di annidamento se lo scriviamo con la virgola è semplicemente una lista quindi tutti quelli che scrivo div p eccetera avrei potuto appunto fare che so div facciamo class diciamo questo esempio scriviamo div punto esempio l'ho definito io adesso si applica solo al div che ha class esempio se invece io tolgo punto esempio si applica tutti i div ok oppure se io scrivo punto punto esempio applico a tutti quelli a cui io scrivo esempio posso salvare già fatto quindi se io p class esempio si applica a tutti quelli che hanno la classe della dello stile che voglio applicare quindi se scrivesse più elementi come s1 s2 s3 si applica i figli dei figli mi sembra di sì potete provare qui adesso ne abbiamo solo uno quindi penso si possa fare div span p sì ok quindi si tratta di provare ma come vi dicevo fondamentalmente noi lavoreremo nel momento in cui vogliamo fare qualcosa con o delle classi quindi diciamo yellow no giallo scriviamo in italiano quando voglio fare qualcosa di giallo ci scrivo la mia classe è giallo e quella mi diventa gialla quindi punto oppure se non so che so abbiamo qualcosa in cui risultato quindi div p quindi id risultato diciamo pure già tanto non ci interessa quindi un unico elemento abbiamo l'abbiamo identificato e ci applichiamo un qualche pezzettino di stile in più oltre al default che viene fuori che so dalla libreria che usiamo eccetera eccetera quindi sono questi i due comportamenti che fondamentalmente andremo ad utilizzare quindi difficilmente andiamo a indirizzare tutti i tag eccetera perché perché se usiamo una libreria qualcuno ha già fatto dei default ragionevoli per noi e non vogliamo andare a cambiarli no perché se no finisce l'utilità di usare una libreria un framework che ha già messo a posto la maggior parte delle cose ok io farei pausa visto che sono le 10 quindi come sempre chiudo e riapro subito zoom perché così intanto il sistema processa la registrazione eccetera eccetera e se avete dubbi o domande possiamo ancora rispondere a qualcosa se no appunto facciamo almeno 5 minuti di pausa e poi riprendiamo e facciamo anche qualche prova live appunto come abbiamo fatto adesso se cambiassimo qualcosa può andare eventualmente in conflitto con quanto definito dalla libreria usata sì certo certo ma la regola è quella che dicevamo noi prima nel senso che c'è un modo per decidere qual è la regola che si applica diciamo a livello base la regola è dove che era è questa no nel senso che se la libreria ha definito qualcosa e noi abbiamo scritto qualcosa di più specifico quindi ha definito qualcosa per un tag più elevato nell'albero vale la regola del del tag più vicino a quello che ci interessa se invece sono regole in conflitto sullo stesso elemento vediamo dopo come risolvere però fondamentalmente c'è una gerarchia di stili ed è per quello che si chiama cascading in cui diciamo vale c'è una serie di regole abbastanza complicata però fondamentalmente vale l'ultima la più specifica che scriviamo e quindi le librerie sono scritte nella maniera che possono essere personalizzabili e quindi ci consentono di cambiare il loro comportamento per certi per certi elementi no sul quali che so mettiamo class piuttosto che id eccetera va bene facciamo la pausa e poi ovviamente andiamo a provare tutti questi comportamenti quindi chiudo e poi riapro subito stop e end tutto